ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un video tag che si chiama video tag bambini non so chi l'ha ideato però l'ho visto sul canale di lovely vale ciao tesoro un bacio grandissimo sono nove demande riguardo i bambini o quello che penso io insomma e l'ho voluto fare perché comunque io ho un figlio scusatemi comunque un figlio sapete william e quindi vi so dire anche meglio perché non ha bambini insomma ecco allora cominciamo subito prima domanda quanti figli vorresti avere preferire sti maschio femmina allora è già difficile e c'è uno anche william infatti io preferivo maschio infatti è nato un maschio quindi sono a posto diciamo perché da piccola avevo sempre un maschio e poi mi ero fissato questo nome william e piaceva tantissimo e volevo due figli in realtà però dopo va bene andata male con la storia del primo c'è no di prima del padre tra virgolette padre che ne è stato proprio un padre va bene mi fiolo con massi anni che ci siamo lasciati e adesso come tutti sapete sto con roberto da cinque anni e niente quindi siete già era roberto che comunque l'avevo conosciuto di prima e già due figli avevo fatti però per adesso basta c'è william basta ma basta avanza e quindi comunque ne ne volevo due dei bambini mi piaceva sia maschio che femmina scusate mi sta morendo di caldo volevo sia maschio che femmina e almeno c'evo tutti i due sessi però dico se ne faccio solo uno preferirei preferivi preferivo il maschietto infatti mi è nato il maschio passiamo alla seconda domanda se figlia unica o hai fratelli e sorelle qual è la condizione migliore allora sono figlia unica qual è la condizione migliore non ve lo so dire se è meglio essere figli unici se la domanda vuole intendere questo quella che dice quella condizione migliore figli unici oppure avere fratelli e sorelle allora figli unici la cosa bella è che comunque c'è tutto per te tra virgolette sei viziata no io un po' sono stata viziata non tantissimo però lo sono stata e quindi c'hai tutto per te c'hai i tuoi genitori tutti addosso a te tra come l'affetto l'amore eccetera eccetera e invece credo che se c'è un fratello o una sorella io non lo so un pezziero mio perché non c'ho sofia unica credo che comunque per esempio se io voglio un qualcosa può essere i genitori miei dicevano no perché già l'ho promesso prima tua sorella io devo aspettare non so quanti anni per prendere qualcosa per dirvi che faccio una cazzata ad esempio e quindi non lo so però io a me mi era sempre piaciuto avere un fratello però un maschio più grande di me anche dei 5 anni tipo come fosse che te protegge se qualcuno ti dà fastidio no se proprio qua mi era sempre piaciuto però i miei genitori erano pazzi per me pure loro volendo due bambini però dopo che sono nata io sono andati fuori dai testa con me e non ci eri più pensato di fare un altro peccato però vabbè comunque così la condizione migliore non so per me è migliore tutte e due sia essere figli unici sia avere un fratello o una sorella credo che è una cosa bella un bel po' terza domanda qual era la tua passione da bambina? la mia passione da bambina era giocare con l'intento 64 computer e in più era giocare a palloni giocavo sempre a calcio pallavolo a basket tutto quello che riguardava il pallone anche da sola che lanciava il pallone contro il muretto il muretto non la ritirava per dirvi no e il pallone anche molto poi avevi tanti amici da piccola? sì io perché stavo prima io abito qui questa è un'altra via che abito qua e dove abitavo via e dove passi da qui praticamente dove abitavo prima ormai qui qua te tre quattro anni che stiamo qua vabbè e dove abitavo prima ero piccolino ovviamente c'era tutti gli amici mia del palazzo tutti i bambini stavamo lì da fuori eravamo quasi una decina e ci diverteravamo molto quindi sì avevo tanti amici cosa adoravi mangiare? le merendine che le mangiavo anche del nascosto siccome da piccolo io ero bello ciccia mi pare il mare per comprare le merendine era per colazione o per merenda e io del nascosto ogni tanto le andavo a spulciare qualcuno le merendine proprio andavo matta andavo matta proprio poi continuiamo andiamo avanti cosa pensi dei bambini che fanno urla e schiamazzi nei luoghi pubblici se fossi i tuoi figli a farli cosa faresti allora io per esempio o william william è che fa tanto così però per esempio anche tipo che non so d'estate anche l'anno scorso che ho sotto il pomeriggio quando è quattro e mezza a me se c'è i fioli non c'è i fioli ma cazzo c'è urla e schiamazzi a me non me ne frega basta che non lo fare nelle ore in cui la gente deve dormire che la mattina deve andare a lavoro e si alza presto o all'ora del pranzo no infatti mi fiolo quando è quattro e mezza a quattro anche lo faccio uscire e a posto c'è uid a me mi piace sentire comunque bambini che giocano te danni proprio con la sensazione anche di serenità ai bambini la cosa più bella che ci può essere anche al mondo e quindi mi piace sentire un po di vita un po di che c'è un po di come si può dire una parola data è che senti l'allegria dei bambini se cose qua la loro giovinezza e tutto a me piace tanto invece c'è certi che non li supporta né proprio invece o meno a meno che non stanno a spaccare le robe per dirti però per esempio non sopporto quei bambini capo quello non è colpa di fiore ma dei genitori da dio sta calmo no la molletta telema perché che perdite a mezzanotte e mezza l'uno fa nel casino nono vabbè perché la gente comunque dorme si deve riposare la mattina dopo va a fatica eccetera eccetera e quindi quelli non lo sopporto come il mio figlio non lo fa quindi infatti qui dice se fossi il tuo figlio a fargli cosa faresti se fossi mio figlio e lui l'ha fatta finita la mancata veloce subito per dire a parte che non fare c'è quell'ora però ti ripeto ci schiamassi a me non mi interessa o mi danno il fastidio anzi mi piace sentire i bambini basta che è nelle ore in cui non si deve fa casino insomma poi prossima domanda vizieresti tu e bambini a willy ha molto viziato ma non da parte mia da parte dei nonni come sapete i nonni loro sbagliano e soprattutto dai ecco da mangiare i dolci caramelle nutella merendine se robe qua siccome è diverso che abito tante volte rimane di padre loro infatti lo sanno per diciamo è una volta una volta da una volta tommaso ma la soffiò ma no che è stata una colpa a loro è normale non i lo vizi nel fa piena no tra virgolette i danni a roba provi male mi pare indietro che basta perché comunque fino fa ma sto fio sto mangiando sul solso infatti no adesso si sta molto regolando ci stanno molto regolando col mangiare tutto è molto meglio di prima prima veramente era un casino anche perché loro deve capire che comunque né che io abito con vivo con roberto i nonni li vede una volta ogni morto di papa allora gli da con la caramella con il gelato con la cioccolata e c'è sta però qui ci abitano io abito con i miei genitori quindi willy abita con i nonni poi da sta tutti i giorni la roba no qui però no adesso tranquilli mi tranquilli anche voi c'è nel senso che comunque non è come prima adesso sta mangiando più sano tranquillamente proprio metti i nonni ma ne è che loro in piva una dè di roba oddio proprio fallo un gozzano è per carità però c'è sta con la volta diceva tieni oggi poi tieni più tardi sai non va beh se no io non è che si lo vizio anch'io però non solo del magnan che te giochi o altre cose però di un bambino buono bravo quindi capisce non è stupido e vabbè però comunque c'è nel senso che comunque se loro si stanno andare regolato e willy anche insomma l'ha capito e poi l'altra cosa ve lo dico alla fine del tag dato che si parla dei bambini poi questa è la penultima domanda ti piacciono i nomi stranieri stravaganti si molto a meno italiani non mi piacciono per niente dei maschi non lo so dove vedi ecco mi piace per niente però dei maschi mi piace adriano valerio e credo basta di femmine ecco mi piace molto mia daphne christine carol no caro non non è vero non era caro non ricordo però tutti i nomi stranieri o americani così mi piacciono molto l'italiano non dice niente infatti willy avevo chiamato willy l'ultima domanda cosa non vorresti che tuo figlio diventasse o facesse cosa gli augureresti a loro spero che mio figlio non diventasse un drogato un ladro una mazza gente un suicida sta roba così voglio gli augurei c'è dopo vedete quando cresce con chi sta con chi esce con chi va se si droga se non si droghi willy ha detto sempre anche delle sigarette siccome io fumo ci sono passata quindi io posso dire nel senso che per esempio se lui esce con degli amici sua che cominciano a fumare cioè che fumano e dice dai willy ha fatto in tiro no che te fanno lui devi dire no se lui dice no e questo qui dice ma sei stupido sei scemo ma dai una sigaretta ti devi rispondere io ho detto mamma io sarò pure stupido sarò pure scemo sarò pure deficiente un coglione oppure che so pauroso che c'ho paura quello che te pare proprio riferisco essere così che morì quindi se vuoi morite e io non voglio morire così giovane e devi dire così la droga ma deve prendere insomma l'importante sta roba qua dopo per il resto può fare quello che gli appare dopo per quanto riguarda droghe fumo bere no adesso vuoi fare una bevuta con gli amici va a ballare sti cazzi va senza embriaga e io vorrei tutto veramente tutto il bene del mondo tutto voglio che la vita comunque gli porti buone cose il suo futuro e voglio che sta tranquillo lo voglio vedere sempre sorridere sempre allegro come lui e io augurerei tutto il bene del sto mondo insomma e niente quella cosa che volevo dirvi prima che willy è stato promosso è stato ammesso la classe quarta elementare siamo andati a vedere i primi tabelloni stamattina proprio prima di prima di farvi questo video tag qua su in piazza qui c'è la scuola qua c'ho alle 5 minuti arriva a piedi e siamo andati a vedere willy è stato ammesso la classe quarta insomma ecco e quindi sono sono contenta a parte lo sapevo che era stato promosso che bravo l'altra volta dei verbi sui verbi ha preso 10 di voto ma ha avuto una pagina tipo da che parte dai 7 a 10 7 8 9 10 non ricordo su quale materia c'è la bravissima anzi un po di niente immaginavo che era stato promosso e quindi niente quindi sotto al video fate gli auguri a willy a che è stato promosso bravo no vabbè e niente io che dirvi io tag a tutte come sempre insomma questo video tag lo può fare si chiama mamma oppure no è normale uno che pensi fioli o che vorresti o quando le avresti cosa faresti te insomma così e niente io sotto all'infobox vi lascerò comunque tutte nuove le domande io spero che questo video vi sia piaciuto mettete pollice su sotto al video commentatemi noi ci vediamo come sempre al prossimo video ciao ciao